Buongiorno a tutti, sono Letizia Naccio, ho 30 anni e sono un ingegnere, ho conosciuto in realtà il 5 Stelle di persona, ho conosciuto grazie all'incontro avvenuto proprio a Santa Mariana, perdonate che sono anche in Santa Mariana, un'altra informazione dopo da dare subito, la problematica è legata proprio al contesto, al luogo, quindi la vendita del castello di Santa Severa è stata una delle piccolissime lotte prima come cittadina e poi successivamente confrontandomi con altri cittadini abbiamo trovato nel movimento la possibilità di conoscerci e di esprimerci, quindi piccolissima resoconto, dicendo io sempre a Roma quant'altro risultava difficile un confronto perché lavorando tutti i giorni quant'altro, invece paradossalmente arrivando nel provincio un confronto è stato un po' più semplice e agevole, quindi questa piccola possibilità del castello, cioè questa piccola lotte diventa poi una possibilità e poi da lì il confronto con altri a livello regionale è stato ancora più importante, quindi molto spesso si dice la responsabilità, cioè uno è il portavoce e quindi di conseguenza non è un po' più semplice un po' più semplice la possibilità del subtartimento non è semplice non ci male